La costa molissana piace sempre di più tanti turisti che hanno riempito in questo inizio di stagione le località di mare della regione. Un boom di villeggianti sulle spiagge di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero. I numeri confermano le previsioni che sono allettanti. L'incremento dal 2019 è sempre più netto. Sull'edizione sudamericana del quotidiano Gente d'Italia è stato pubblicato un rapporto e intervista sulle case vacanza che in Italia vede premiata proprio Termoli, assieme a mete un tempo considerate inarrivabili. A dirlo i dati in possesso della PropTech che fotografa numeri e tendenze delle 340 destinazioni gestite. L'analisi delle prenotazioni effettuate dal centro studi della PropTech dice innanzitutto che tornano i turisti stranieri. Stando alle prenotazioni effettuate dal 1 gennaio al 31 maggio provengono da ben 114 paesi. L'età media dei viaggiatori internazionali è di 40 anni che si abbassa per spagnoli e inglesi a 37,38 e si alza per gli americani ad oltre 42. Le mete preferite per numero di prenotazioni sono Alghero, Como, Termoli, Andorra, Sanremo, Monopoli, la Costa Smeralda, Avola, Bormio e Siracusa. La città molisana nella top 10. Una regione sempre più apprezzata. Un Molise che però deve prepararsi sempre meglio anche perché la possibilità che le aspettative si alzino è dietro l'angolo.